incognito scatola della mb del 1988 descriveremo il contenuto della scatola per i collezionisti e solo in modo superficiale le istruzioni. Scatola superiore, parte inferiore della scatola e sotto vuoto interno blu. Una plancia gigantesca che rappresenta Venezia con le vie d'acqua e i posti dove inizieranno i segnalini a partire. Quattro buste, quattro passaporti dei quattro colori dei quattro giocatori, 16 segnalini che rappresentano le quattro squadre, ogni giocatore avrà i quattro segnalini, sono composti da una base, da un corpo, una mascherina bianca e un cappello. Ognuno di questi ha una, ogni figura ha una caratteristica, vengono definite all'interno delle istruzioni come l'alto, il basso, il grasso e il magro. Un ambasciatore formato da due pezzi, una pedina formata da due pezzi, le istruzioni, 48 carte, comprese tre carte bianche per le sostituzioni delle carte usurate, un distributore di colori, bellissimo, con dentro dieci biglie, formato da tre pezzi, quattro pezzi, un libretto per gli appunti, istruzioni. I travestimenti si fanno unendo due parti di plastica per il corpo, una base, un cappello e la mascherina. L'ambasciatore invece sono semplicemente due parti che si uniscono, eccolo qua, e si forma la figura con il cilindro. Il mischia colori invece si compone di tre parti, una, due, un fondo tre, più una maschera quattro e all'interno andranno queste dieci biglie con questi colori. Il mischia colori determina le mosse che possono fare i giocatori. Ad ogni turno un giocatore può fare tre mosse agitando il mischia colori a seconda delle palline che escono. Quindi il rosso determina un movimento terra, cioè quindi sulle linee rosse nella plancia, il blu un movimento, quindi soltanto una casella dell'acqua, il nero invece sono le mosse dell'ambasciatore che può andare sia su terra che su acqua e il bianco invece nessuna mossa. Il giallo permette di fare una mossa o sull'acqua o sulla terra. In questo caso quindi abbiamo un nero che muove l'ambasciatore, un blu che muove una casella sull'acqua e un bianco che determina che non si può muovere insomma. Le carte, le carte sono, ci sono quattro mazzi da otto carte che rappresentano le identità e i travestimenti con i quattro colori. Quindi ognuno di questi mazzetti ha otto carte con quattro identità e quattro colori. Poi esiste un mazzo diciamo nero dove non ci sono i colori con le quattro identità, i quattro travestimenti e le quattro parti di un messaggio. Poi vedremo cos'è un messaggio. In ultimo c'è una carta inizio che determinerà chi inizia il gioco e poi tre carte bianche che vengono utilizzate per sostituire eventuali rotture o carte che si sono perse. All'inizio del gioco il mazzo nero diciamo viene suddiviso e inserito nelle buste. In ogni busta andrà quindi un travestimento, un'identità e una parte di messaggio. All'interno di una busta sola verrà inserito chi inizia il gioco e a questo punto le quattro buste vengono distribuite ai quattro giocatori. Quindi ogni giocatore riceverà almeno un travestimento, un'identità, una parte di messaggio. Lo scopo del gioco è quello di trovare fra i quattro giocatori, fra gli altri tre giocatori, chi è il suo socio e a questo punto unire i due messaggi e nel retro dei passaporti ognuno sceglierà un colore quindi ci sono le combinazioni dei messaggi e allegato a ogni combinazione dei messaggi ci sono delle missioni da portare a compimento, quali spostarsi all'interno della plancia e a quel punto la missione è finita. Quindi l'obiettivo del gioco è individuare quale altro giocatore è il socio diciamo e portare a termine la missione che c'è all'interno del passaporto. Quindi muovendosi con il mischiatore di colori come abbiamo visto prima il giocatore si muove all'interno della plancia e cerca di andare sulla casella di un altro giocatore. Quindi magari il verde si posiziona sulla casella del giallo, a quel punto chiederà al giallo di fargli vedere tre carte. Il giallo gli farà vedere le tre carte delle quali una è sicuramente una carta che dice la verità, le altre due possono essere false. Con una serie di passaggi si arriva a determinare quale può essere il proprio compagno, ci si manifesta anche attraverso dei segni oppure semplicemente facendo vedere la carta della propria identità o dimostrandolo in altro modo. A quel punto si uniscono le due carte e si cerca all'interno del passaporto qual è la combinazione. La combinazione porterà a moversi all'interno della plancia per arrivare fino all'obiettivo e quindi vincere la partita. Grazie. Grazie. Grazie.